Non so dire. Non può dire il suo nome per te che sia? Cristiano Venucci. Erei il... Sindaco di Reggio. Sulle condizioni della bambina hanno notizia per te che sia? No. Non so darvi notizie rispetto alle condizioni della bambina. Si può dire che si sia allontanata, che abbia perso l'orientamento, insomma, un incidente. La nonna dove si trova in questo momento? L'hanno trasportata all'ospedale Fontaniche. Queste condizioni sta per te che sia? Senta, è vero che in questa zona si era persa un'altra persona nel 2012, se ti ricordi? Ma... Conosceva le persone che si sapeva questa vicenda? Prima solo questa? Ovviamente sì. La famiglia, anche la madre, la bambina, la nonna e la nonna stessa. Certo. Che famiglia era, secondo me? La prima cittadina, un giudizio, solo due parole. Sì, è una famiglia normalissima. Grazie. Grazie.